Dopo il panettone, c'è una busta, dopo il panettone, c'è una busta, guarda, quella rossa, il suo pacco rossa. Non dipenda, non il pacchetto, è questo, portalo qua. Ma chi è? Portalo qua. Ah, è tua. Ma ora lo vuoi aprire? Sì, allo tavolo, lo so, perché? Mamma, quindi è per il mio amare. Mamma ce n'è io. Quindi è per il mio amare? È per il tuo padre, sì, vieni qua, portalo qua. Perché ora lo vuoi aprire? Perché divano alternativa. Perché lei abbia fana, può portare il regalo quando vuole, dici da lei. Ah, rompile, no? Ci ha messuto il pomeriggio per il padre. Perché tu mi è finata, ragazzi. Sério? Sette, questo regalo di primavera. Non lo faccio, dovevi sapere. Cavolo, questo è il regalo migliore. Non riesce a scendere. Maio, maio. Mi c'è la mia carta, è troppo lontana. No, pure prima. Ma non mi ha portato? No. Ma non mi ha portato così, questo è per tempo. Sì, faccesse, mi piace. C'è bocca. Voglia? Beh, parte, auguri di pace e significato. Vuoi? Uh... Ma... Ehi, super! Per...